il lago di molveno in trentino alto adige è un bacino artificiale costruito nel 1957 ogni dieci anni il lago viene svuotato per consentire i lavori di manutenzione al tunnel di scarico della centrale idroelettrica il 18 gennaio 2017 gli operai della compagnia idroelettrica durante le operazioni trovano un corpo incastrato nella griglia ai piedi del tunnel di scarico il cadavere è quello di una donna ma i tratti sono irriconoscibili l'unico elemento distintivo è che addosso le è stato ritrovato un vestito da damigella con un enorme gonna rossa urlata di pizzo che cosa è successo alla damigella del lago mi chiamo vittorio e faccio il giornalista e questa è la storia dello svuotamento void vuoto la serie da ascoltare prodotta da o suono mio grazie a tutti grazie a tutti